La buona notizia è che questa venere si toglie da una posizione scomoda, una posizione di quadratura, certamente sarà più utile nel segno del toro per quanto vi riguarda, però questo weekend vi vede ancora un po' in difficoltà perché la luna nel segno dell'acquario non è il massimo, è una luna sempre un po' troppo cupa, è una luna piena di dubbi, è una luna piena di sospetti soprattutto e siccome già c'è questo Marte che va un po' a disturbare la vita quotidiana e nei rapporti di coppia, quelli più stretti, quindi nel matrimonio, che voi avete qualcosa che vi rode, anche un tarlo nella mente, poi però nei prossimi giorni sarà più agevole toglierselo e chiarire anche qualsiasi tipo di dubbio con il vostro partner.